In questi giorni, in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, gli uomini della stazione Carabinieri Forestale di Alba hanno intensificato i controlli per verificare la corretta applicazione da parte dei cercatori delle norme che disciplinano la raccolta del tartufo sul territorio. Nell'ambito di questi controlli, nel comune di Montà, il personale ha ripreso più volte, grazie all'installazione nei boschi circostanti di fototrappole, un uomo che ricercava tartufi effettuando scavi e zappature nel terreno mediante l'utilizzo di un vanghetto. Tali scavi venivano effettuati in punti precedentemente battuti e sondati tramite un bastone di legno e senza l'ausilio del cane al fine di avvertire la presenza di tartufi nel sottosuolo. Inoltre, gli scavi e le zappature non venivano ripianate come invece previsto dalla norma vigente. Così il cercatore, pur essendo in possesso del regolare tesserino di idoneità per la ricerca e la raccolta del tartufo, è stato sanzionato in base a quanto disposto dalla legge regionale con una multa di 104 euro e con il ritiro e la sospensione per un anno del tesserino. E' bene ricordare che le modalità di raccolta non conformi alla norma finiscono per arrecare notevoli danni agli ecosistemi tartufigeni. Tutto ciò minaccia la conservazione di una risorsa unica per il nostro territorio e dal considerevole valore sia economico sia produttivo.